Di notte entra nell'appartamento della ex per aggredirla. Un 39enne è stato arrestato dalla polizia nella notte tra sabato e domenica a Verbania. A chiamare il 112 è stata la donna residente in città molto agitata. Sul posto è intervenuta immediatamente la sezione volanti della questura del VCO. Gli agenti hanno identificato l'uomo, 45 anni, anche lui verbanese, che si aggirava nei dintorni della casa della donna. A suo carico risultava una misura di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna. Gli operatori della volante lo hanno quindi portato in questura per gli accertamenti del caso e lo hanno quindi arrestato per aver violato il provvedimento cautelare emesso dal tribunale.